Serve un grande investimento pubblico nelle regioni meridionali, capace di sostenere una dinamica di crescita e di sviluppo. La sola iniziativa privata non ce la fa, a recuperare anni e anni di ritardi. Ecco perché serve una strategia di investimenti pubblici, concertata, contrattata con le parti sociali, capace di fare forti, forti iniziative e interventi sulle infrastrutture materiali e immateriali, sulle competenze e sulla formazione dei giovani meridionali. Bisogna intervenire per adeguare la rete dei servizi, dalla scuola alla sanità, alla giustizia, ai presidi di legalità. Serve un forte, forte intervento capace di realizzare una maggiore coesione nella prospettiva di mettere il Sud nelle condizioni di saper utilizzare al meglio le risorse che arrivano dalla Unione Europea a cui dobbiamo necessariamente agganciare pezzi del bilancio ordinario dello Stato. Un Sud debole che cosa vuol dire anche nei confronti del Nord del nostro Paese? Su 75 miliardi di spesa e di consumo delle popolazioni meridionali, 65 miliardi sono rappresentati da beni e servizi prodotti al Nord. Senza il Sud il Nord arranca.